Carissimo Alessandro, ci siamo, finalmente possiamo cominciare questa live seriamente, anche se non sarà mai seria perché basta che ci guardi. C'è l'emozione anche, che ha fatto l'emozione. Tanto pure con me, non è che lo conosci, Edda. Sì, no, devo dire, beh dopo lo dirò, dopo dirò le mie impressioni su Alessandro, sul mondo del doppiaggio, anche dal mio punto di vista, per quel poco che ho conosciuto e ne sono rimasto entusiasta. Ma ora diamo parola al boss di questa live, che è Alessandro Campaiola in arte Ale Ward, se non mi sbaglio, giusto? È il tuo, diciamo, nome d'arte. Guarda, in realtà su internet scrivono che è il mio nome d'arte, io non ho mai assolutamente utilizzato nome d'arte, cioè nel senso che io, Alessandro Campaiola, poi siccome ovviamente vengo dalla famiglia Ward e su Instagram sono aleward92, allora il mio nome d'arte è Ale Ward. Però in realtà non, no, cioè io sono Alessandro Campaiola. E questa è la prima domanda che ce la siamo tirata via apposta, quindi il suo nome d'arte in realtà, cioè non ne hai uno. No, no, un nome d'arte. Non hai un nome d'arte, perfetto, perfetto, ottimo. Allora, Alessandro. Caro. Stiamo per presentarti ai nostri ascoltatori, come se fosse una persona che non è conosciuta, no? Ovviamente sapranno benissimo chi sei, ma per fare un attimo. Per cui pochi che ancora. Per cui pochi che ancora sono ignoranti. Chi è Alessandro Campaiola? È un doppiatore? Chi lo sa? Lo scopriremo in questa live, dai. Prego, quindi vorrei lanciarti la palla, insomma, per una breve presentazione. Beh, allora ragazzi, io sono un attore, doppiatore. Ho cominciato alla tenera età di quattro anni, ho smesso per un po' di tempo per poi riprendere questa strada, insomma, e farla la mia vita, insomma, farne la mia vita a 15 anni. Vengo da una famiglia che lo fa da tantissime generazioni, la mia trisnonna era la voce della strega cattiva di Biancaneve, la strega anziana. Quindi immaginatevi, Biancaneve è un film classe 1936-37, ora giù di lì, non ricordo, insomma, comunque quegli anni là, mia nonna già era anziana per doppiarla, insomma. Quindi, per farvi capire che è la famiglia Ward, e niente, questo è, sono un attore, doppiatore, faccio teatro, faccio cinema, faccio doppiaggio, tanto doppiaggio, questo è. Certo, molto teatro soprattutto, che è una cosa un po' che scopri quasi secondariamente, perché no, abituati a sentirti, non so, come voce di un personaggio, poi ti vai ad informare effettivamente, ad esempio, come è stato per me. Ho scoperto che facevi anche teatro, ho scoperto i Fori Sync e tante altre cose molto bizzarre. Fatto per tanti anni, adesso ci siamo un pochino fermati, oppure insieme con i Fori Sync siamo fermi, perché comunque la situazione mondiale non è proprio il top in questo momento per il teatro, per quella strada lì, purtroppo. Immagino. Senti, io volevo farti questa domanda molto rapidamente. Abbiamo parlato della famiglia Ward, mica niente, no? Quindi, da questo punto di vista, nella tua condizione è stata una fortuna, è stato un motivo quasi opposto, quindi di peso, è stato un fardello, è stato entrambe le cose, perché, e ti dico la mia opinione prima di lasciarti rispondere, molto spesso, ma anche io personalmente avevo queste da un tempo fa, no? Se sei figlio di, hai la strada spianata. Questo può essere vero, secondo me, ma portare il peso... Il punto è, hai la strada spianata, ma è la tua strada... Esatto. Allora, diciamo che nel doppiaggio funziona un po' diversamente, nel senso che, per rispondere alla tua prima domanda, sono state entrambe le cose. Sicuramente è stata più la fortuna di venire da una famiglia che il contrario, perché ho dovuto portare quel peso di cui parlavi poi dopo, diverse volte. Però, obiettivamente, diciamo che mi punto a favore che ha un figlio di una famiglia che lo fa da generazioni, che, la mia famiglia, se è ben chiaro, non ha una società di doppiaggio, quindi non è che mi abbiano mai potuto inserire direttamente nelle lavorazioni, salvo qualche occasione in cui magari i direttori del doppiaggio erano mia madre o mio ansia, però è una cosa più circoscritta. Quindi, però, ci sono state anche tantissimi lati negativi, nel senso poi, ovviamente, come dicevo, di portare il peso. Mi perdoni, mi ripeti un attimo l'ultima domanda, perché è quello che ti dovevo rispondere. Sì. Ah, sì. No, 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 eccomi, eccomi, mi stavo perdendo, però eccomi, sì. Per il doppiaggio, diciamo che la strada spianata ce l'hai e non ce l'hai. Il doppiaggio è un lavoro d'artigianato. Come tutti i lavori d'artigianato si possono, si tramandano, si possono tramandare. Questo, però, non vuol dire che se vieni da una famiglia, insomma, importante, magari mia madre è bravissima, mio zio è bravissimo, allora anche io automaticamente sfondo nel doppiaggio. Perché il doppiaggio è, forse, l'unico settore della recitazione in Italia ancora meritocratico. Cioè, nel senso che se sei cane, se sente. Al microfono non lo puoi nascondere. Quindi poi, la carriera, il tipo di carriera che fai dipende prettamente da te. Chiaramente entrare nell'ambiente è molto più semplice. Cioè, vi faccio un esempio. Quando ho ripreso a farlo, che non mi conosceva nessuno, cioè sì, vabbè, mi conoscevano come il figlio di Monica Ward, ma non ne facevo, perciò a livello di leggio non mi conosceva assolutamente nessuno. Per me è stato più facile perché se io andavo in una sala X e incontravo, che ne so, Massimo Rossi, che è un direttore, attore straordinario, che mi ha visto nascere, mi ha visto crescere, è amico di famiglia da sempre. Massimo, me lo fai un provino? Massimo mi dice di sì. Magari a qualcun altro no. Questo è ovvio. Poi però, una volta che io faccio il provino, sono io, con le mie capacità, che devo guadagnarmi, tra virgolette, la sua stima per essere poi richiamato e per andare poi a fare questo mestiere. Quindi, ovviamente, io lo dico sempre, sono stati molto più i lati positivi che i lati negativi. Però c'è anche da dire che ci ho veramente dedicato tutto quello che avevo. Tutto quello che avevo l'ho messo per riuscire a far avverare questo sogno, che era quello di fare questo mestiere per tutta la mia vita e per la mia vita, insomma. Quindi, però, sono entrambe le cose, e devo essere onesto, è stato sicuramente più il vantaggio che lo svantaggio, perché sennò ti direi una bugia. Poi, ovviamente, ci sono state anche quelle situazioni in cui, all'inizio, quando ho ripreso per dirti, mi capitò su una serie che facevo da protagonista, una direttrice che bloccò il turno. Questo, poi tu mi sai che lo sai perché te l'ho raccontata questa cosa, Davide. E bloccò il turno, entrò in sala, davanti a tutti, davanti all'assistente alfonico, e disse, tesoro mio, ma c'avevo 16 anni, 17 anni, ma quanti anni c'hai? Ma perché? Ma fai qualcos'altro? Non sei in grado di fare questo mestiere. Poi, voglio dire, vieni da una famiglia così importante, rischi pure di fargli fare una figuraccia, lascia perdere. Questo è per dirti. Questo è il vero. Poteva accadere anche, è accaduto anche questo, è accaduto anche questo. Quindi, però, obiettivamente, sono stati più i lati positivi, se no sarei bugiardo a dirti il contrario. Certamente, comunque, alla fine, no, è quello che pensavamo anche noi, è il talento, alla fine, che detta ciò che una persona fa. Quello è il percorso che fai, cioè, ti faccio un esempio pratico. Ci sono dei figli di doppiatori storici, che sono stati tra i più bravi che abbiamo avuto nella storia del doppiaggio, che non hanno minimamente fatto il tipo di carriera che hanno fatto i genitori. Questo lo vediamo anche con gli attori. Cioè, non per forza, ho capito, figli, insomma. Quindi, alla fine, dipende da te, comunque, poi, dove arrivi e dove metti il punto, capito? Poi, ovviamente, è ovvio che venendo da una famiglia, ci nasci dentro, conosci il mestiere, comunque lo vivi, lo respiri sempre. Io pure, per dirti, quando ho ricominciato, che mi allenavo tantissimo, a casa avevo mamma, che se, per dirti, mi usciva la parola in romano, mi davano un scappellotto. Ecco, proprio per dirtela, mi davano un scappellotto, cioè, da Roma, capito? Ah, non capito. Però, per dire, cioè, oppure mi aiutava, cioè, io stavo lì, che leggevo ad alta voce, interpretavo, e lei mi correggeva, mi dava una mano. Quindi, questi, ovviamente, sono tutti i lati positivi che uno ha. E poi, proprio il fatto che ci sei comunque nato, anche se io da bambino ne ho fatto poco, comunque sono cresciuto dentro le sale. Cioè, io mi ricordo che a me mi venivano a prendere a scuola, mi portavano in sala, perché non sapevano do sbatteme, no, do lasciamme, e io passavo i pomeriggi dentro le sale di doppiaggio. Quindi, comunque, lo respiri, no? Cioè, ci sei dentro, ci sei dentro con la testa, ci sei proprio dentro. Quindi, chiaramente, sono più i lati positivi, questo è ovvio. L'infanzia nelle sale di doppiaggio, che bello. Detto questo non vuol dire niente, perché tra i più forti doppiatori della storia, insomma, non sono da, non vengono da nessun tipo di famiglia. Cioè, noi abbiamo tra i doppiatori più bravi che abbiamo, che voglio dire, non so, sono guadagnato da soli. Non so come dire, non è che nessuno ha mai, capito? Sono loro che hanno intrapreso quella strada. Quindi, non vuol dire comunque niente. D'accordo, beh, è stato esaustivo. Certo. Quando ha parlato di attori cani... Ho sentito, è vero, anche io mi sono trattenuto. Cagna maledetta, cagna maledetta, dai, dai, dai! Incredibile. Oppure, quando il trio faceva le telenovelas, tipo, perito per aria, che cosa? Siediti qui e bevi del tè, vuoi bere del tè? Siediti qui. Bellissimo. Ragazzi, ma voi quanti anni avete? 17. 18. Cioè, avete una bellissima, una buonissima cultura. Bravi, continuate così. Perché oggi a 18 anni il trio non lo conosce, no? Nel senso, io lo conosco, io so che ho cresciuto. Davide, Davide. È una cosa importante. Io ho rosicato un sacco. Boris stesso, eh, Boris stesso. Non conosco un 18enne, un 17enne che l'ha visto. Cioè, è proprio difficile, quindi... Bravi, complimenti. Beh, io ho rosicato un sacco quando Davide mi ha mandato la foto con Massimo Loppa. Con Massimo. Grande, ma Massimo è... Sì, sì, sì. È un attore d'altri tempi. Peccato non c'è stato l'ultima volta. Eh, sì. Peccato. È vero. Che ci vuoi fare? Ascoltami. Eh, il telefono, usiamolo. Tiralo fuori. Cioè, tira fuori il telefono. Il telefono, mi raccomando. Sì, perché vedo già dei commenti, ad esempio, la direttrice del doppiaggio che ti ha fatto quella rammanzina, tra virgolette, no? Sì. Adesso probabilmente starà guardando Attack on Titan dicendo Ah, cazzo. Guarda, con lei è stato molto comico perché mi ha richiamato qualche anno fa, quindi ormai ero diventato già quello che ero, cioè nel senso comunque un professionista, conosciuto da tutti, eccetera, eccetera. Mi ha chiamato a lavorare. Io ho accettato il turno. Sono andato lì. Le ho dimostrato quello che ero diventato. Quindi ho fatto il turno. Madonna, ma sei diventato... E poi non ci ho mai più lavorato. Mi ha richiamato dopo e non ci sono mai più andato a lavorare. Le sono andato solo per dimostrarle. Per fargli vedere, vedi, tu mi hai detto questo e io invece poi dopo. La tasse. Fantastico. Sì, perché mentre me lo diceva dentro di me, ovviamente dicevo, sai, adesso hai ragione, no? Cioè, nel senso è vero perché all'epoca dovevo veramente fare tanta esperienza e un lavoro molto difficile, proprio tanto. Però dentro di me dicevo, un giorno, perdonatemi il francesismo, ti romperò il culo. A te e a tutti quelli che non ci credono, perché io lo voglio. E quindi un giorno vi farò un gioco così. A tutti. E così poi ho voluto farlo. Ed è stato, sì. Intraducibile in italiano questa espressione. Un bucio di culo. Un bucio di culo. Intraducibile. I delicatissimi. Delicatissimi. I borghesi bariole, proprio. Delicato. Fantastico. Allora, io volevo fare questa raccomandazione alla chat. Le domande, per motivi semplicemente di coerenza e di narrativa, le leggeremo tutte, alla fine, quelle che riusciamo, sono i limiti del tempo, ovviamente, perché non vogliamo trattenere troppo. Perché c'è una gerarchia. Prima le nostre, poi noi e poi loro. Esatto. Quindi, scrivetele pure, le leggeremo però un po' verso la fine, perché altrimenti blocchiamo il flusso di coscienza. Allora, un'altra domandina che riguarda sempre un po' la famiglia, il tuo rapporto con la famiglia, riguarda Fede, Federico Campaiola. Allora, io ho conosciuto Federico di sfuggita al primo corso, ho fatto velocemente, ci ho parlato pochissimo in realtà, e poi la scorsa volta, perché è venuto lì come sostegno, ho avuto modo anche di parlarci, di farci una foto, e è stato molto, molto bello. Al di là del fatto che ho conosciuto una persona estremamente meravigliosa, e infatti ho scritto anche a lui che vorrei intervistarlo, e pure lui disponibilissimo, e questa è una cosa ammirevole. Lo dico ora così me la levo. Sì, sì. Io sono, ero fondamentalmente, lo sono anche tuttora, ho questa convinzione per cui la gente che tu senti, che percepisci e che sono effettivamente famosi, non so, un po', no, come una classe che ti guarda dall'alto verso il basso. E come ha detto Federico, molto spesso è così, cioè non bisogna negarlo, cioè molto spesso ti incontrerai, si incontrano persone che effettivamente si pongono proprio come superiori, in un certo senso, e magari lo sono, cioè è innegabile questo. Un amico mio. Quando arrivi al World Lab e incontri persone estremamente umane, cioè che non ti trattano come, sì, senti, io so io e tu sei, voi non siete un cazzo, no? Ecco, tanto per citare, lo tocca. I grandi sordi. Sì, i sordi. E quindi, questo per dire cosa, che sia Alessandro, che Monica, che Federico, li ho trovati estremamente umani, semplici, e quindi questo, per collegarmi a cosa, qual è il tuo rapporto con Federico? So che hai fatto un sacco di cose insieme. Federico è la mia vita. È la persona più importante della mia vita, lo sarà sempre, cioè Federico ha... Fratello per la vita, fratello è chi ha fratelli, non so se voi ce l'avete, ma forse può capire la fortuna di avere un fratello. Federico è tutto. È il mio miglior amico, è il mio fratello, cioè, è il mio fratello. Infatti, stiamo sempre insieme, facciamo tutto insieme. Tutto. È molto bello, è molto bello, è commovente. È bello perché, cioè, questo rapporto fraterno è veramente molto, molto intenso. Non è sempre così, non è sempre così. Diciamo che la vita ci ha portato a unirci tanto per fronteggiare le avversità, insomma, quindi siamo tanto uniti. Io lo dico sempre, quando vedo magari pure amici che hanno fratelli, oppure è... Il fratello è la cosa più importante che hai, è il tuo alleato più vicino, quindi bisognerebbe sempre avere questo tipo di rapporto. Poi, ovviamente, ci sono percorsi di vita diversi, no? Noi abbiamo avuto un percorso di vita che ci ha portato a farci forza insieme, ad essere una cosa sola. Io con i miei punti di forza, le mie debolizze, è uguale a lui. Però comunque, quando vedo, perché spesso lo vedo pure tra amici, magari i fratelli che litigano, ci rimango male e mi dispiace, perché tu ci si può litigare, perché in realtà è Dio, è normale che uno litighi, pure io ce li dico con Federico, anzi, quando litichiamo, litichiamo. Però comunque, bisognerebbe essere uniti, invece che... Cioè, a volte c'è questo rapporto del Dio che palla è mio fratello, o mio sorella, e non deve essere così. Ah, è vero. Perché il mondo è tanto cattivo, è tanto brutto, per certi versi, no? Quindi invece bisogna essere uniti, farse forza, andare avanti insieme. Un bel rapporto, insomma. Un bel rapporto. No, invece, pensavo a quello con mio fratello, a dieci anni più di me siamo completamente opposti. Beh, vi passate pure tanti anni, eh? Cioè, nel senso che io e Fede passiamo due anni e mezzo, esatto. Pensa che abbiamo gli stessi amici, capito? Stesso gruppo, usciamo con le stesse persone, perciò, chiaramente, l'età aiuta, l'età aiuta. Sì, sì, certo, certo, certo. No, comunque è veramente molto bello sentire queste cose, perché sono molto, molto anche commoventi. Comunque, comunque, ho già visto una domanda, quindi questa, mi raccomando, non perdiamola, e dopo la tiriamo fuori, la cacciamo fuori. Allora, come abbiamo già detto, tu sei molto legato anche al teatro. So che non bisognerebbe fare questi brutti paragoni, perché è un po' come dire, ma preferisci questo figlio o quell'altro figlio o una mamma, no? Orrore. Orrore. Ma, se dovessi mettere nella bilancia l'importanza per te del teatro e del doppiaggio, a quale ti sentiresti più legato? La risposta è, non ce l'ho. No, la risposta è... Al doppiaggio, al doppiaggio, ma per il semplice fatto che non potrei immaginare la mia vita senza la sala, perché è casa mia. Detto questo, poi, ogni ramo della recitazione ti dà qualcosa di diverso. Il palcoscenico è un'emozione unica, è qualcosa che io, poi, vedi anche a voi, raga, visto quando sei venuto, l'ho detto pure al World Lab, ai ragazzi, cioè, nel senso che il teatro è fondamentale se si vuole fare questo mestiere. Il set pure è meraviglioso. Io mi sono innamorato del set. Io spero di fare, nella mia vita, di farne tanto, perché mi piace proprio tanto sta sul set. Cioè, per certi versi, anche più del teatro. Poi, capito? Però, invece, per altre cose preferisco il teatro e per altre cose ancora preferisco il doppiaggio. Il doppiaggio, io lo dico sempre, sarà sempre il mio preferito, levando il fatto che da dopo sono partito e quindi è casa mia, ma per il semplice fatto che il doppiaggio ti dà una possibilità che nessun altro settore nella recitazione ti dà. Cioè, il fatto di cambiare tanto quello che fai. Cioè, io di mattina posso essere l'uomo più veloce del mondo, al primo pomeriggio posso essere Eren e la sera posso essere Michelangelo delle Bartalucche Ninja. Nessun altro ramo della recitazione ti dà questa possibilità. Cioè, se tu fai uno spettacolo con i fuorisinco, per dirti gli spettacoli che abbiamo fatto, li portavamo avanti per anni. Cioè, nel senso che poi fai le serate, fai sempre quello, poi si evolve, si cambia, appunto si evolve, però rimane quello lo spettacolo. Se fai un set, se fai una serie tv o se fai un film, te fai tre, quattro, cinque mesi dello stesso personaggio tutti i giorni. Il doppiaggio non è così. O meglio, sì, Flash lo faccio da otto anni, ma non faccio solo Flash. Cioè, io durante la settimana Flash è una delle tante cose che io doppio. Capito? Quindi ti dà modo proprio, ti, come dire, ti sprona, ti stimola tanto, perché devi sempre cambiare. Capito? Io stamattina ho fatto, sono andato a fare The Good Doctor, che è una serie dove faccio un dottore amish, omosessuale, quindi molto sensibile, molto particolare. Poi, all'una e mezza, ho fatto Un Principe Cinese, l'epoca rinascimentale in Cina. Cioè, non so come hai capito, è tanto stimolante, perché cambi tanto quello che fai, e nient'altro ti dà questa possibilità. Quindi non potrei mai vivere senza il doppiaggio. Sicuramente mi piacerebbe fare anche altro, mi piacerebbe, ecco, come ti dicevo, come Capitan VII me lo faccio proprio volentieri, perché mi piace proprio farlo, mi piace starci. Se mi capita uno spettacolo che voglio fare, me lo faccio. Però non potrei mai rinunciare al doppiaggio. Cioè, comunque, il doppiaggio è una parte integrante della mia vita. Capito? Ma, in effetti, questo lato del quasi trasformismo, eclettismo, dal punto di vista del doppiaggio, penso sia la cosa più affascinante del doppiaggio stesso. Io noto anche che, dietro un microfono, quando non sei inquadrato, puoi esprimerti anche in modo molto più genuino, molto più spontaneo, perché vincere, a volte vincere la, come dire, l'ansia, sì, l'ansia da spettacolo, forse è più difficile. Dietro un microfono forse sei più libero. Sì, sì, questo sì. Bel, quello che ti dà il teatro prima, non te lo dà il doppiaggio, non te lo dà. No, certo. Cioè, la paura che hai prima di entrare in scena è qualcosa di... Cioè, io con tutto che amo andare sul palco, ogni volta che faccio uno spettacolo, cinque minuti prima, dentro di me, e non è... Ma chi cazzo me l'ha fatto fa? Cioè, il primo pensiero è quello. Capito? Perché è una paura genuina, però è immensa che... Infatti, per questo io consiglio sempre, per chi vuole fare doppiaggio, di fare teatro. Perché il teatro... Cioè, una volta che hai fatto teatro, andà a fare un provino, devi inserire i doppiaggi, e niente. Cioè, non ci vai che stai proprio... A me quando mi chiamano per fare pure provini grossi... È che è un turno come un altro. Anzi, sono contento perché dura poco. Cioè, nel senso che non devo stare... Dico, oddio, ho 300 righe. No, me la godo, me la posso fare in provino, quindi me lo posso studiare, posso... Capito? Cioè, chiaramente perché ho fatto teatro, punto il teatro, quella roba lì, non trovo da niente. Manco il set, perché comunque sai che se sbaglio lo rifai. Ah beh, certo. Sul palco no. Sul palco no. Sul palco se sbagli, sbagli. Per curiosità, pedicini, Roberto. Grandissimo, Roberto. Grandissimo. Ma lui non ha fatto teatro, giusto? Oddio, io me lo chiedi, ma non so risponderti a questa domanda. Non lo so. No, in teoria ce n'aveva parlato Luca, proprio di questa cosa, del fattore che lui in un palco non ci è mai stato. È probabile, è probabile. Sì, non lo so. Per me, vabbè, lui è uno dei doppiatori più bravi della storia italiana. Cioè, nel senso che Roberto Pedicini è un gigante in questo settore. Io adesso ho finito di vedermi The Book of Boba Fett. Cioè, insomma, sono delle scene che lui parla con Cad Bane, che è doppiato da Rodolfo Bianchi, che è musica. Cioè, proprio... Da quanto è bello quello che senti, ti senti male. Cioè, è una cosa straordinaria. Questo non so se lui non abbia mai fatto il teatro. Io il teatro comunque lo consiglio sempre a tutti. Poi, ovviamente, ci sono pure casi di persone che so... Però, sai, sono casi più rari. Come di Michael Jackson. Michael Jackson, da bambino, arto così, cantava da paura. No? Però non è per tutti così. Tanta gente, invece, deve studiare. Quindi, quale miglior modo del teatro che... Ti dà proprio il modo di scioglerti, di capire veramente che cos'è questo mestiere. Che poi, una volta entrati nella parte, una volta iniziato lo spettacolo, non vuoi più fermarti, perché... Bravo, esatto. Guarda, io ti dico, io la prima volta... Te parlo di... Mo c'ho 29 anni. La prima volta che l'ho fatto... Perché da bambino l'ho fatto, ne ho fatto tanto con la scuola. Io a scuola mia andavo a una scuola americana e si faceva tantissimo teatro. Però la prima volta che l'ho fatto veramente per lavoro, parliamo dei 12 anni fa, 11 anni fa. Avevo appena 18 anni. E io ho sofferto per tanti anni di ansia, di attacchi d'ansia. Insomma, sono una persona ansiosa, stressata. Quindi, prima di entrare sul palco, dicevo, io non ce la farò mai a salire. Cioè, mi tremavo, mi tremavano le gambe. Ho detto, adesso casco. Salgo su e casco perché mi sento male. Non è possibile. Ho sbagliato, non dovevo venire qui. Mi spingono. Poi era una serata importante, quindi eravamo ripresi da come di central. Era una situazione, insomma, c'era tanto pubblico. Quindi ho cominciato col battesimo del fuoco proprio. Salgo sul palco. La luce. Il respiro. Quello che è l'odore. Il pubblico. Mi sono innamorato. Ho detto, io... Non voglio che scendi da qua. Quindi questo è per dire che nonostante... E credetemi, io veramente ero convinto. Dico, io non ce la farò mai. Cioè, casco per terra. Invece mi sono proprio innamorato perché è una magia... È una droga naturale proprio, capito? È una droga naturale. È stata sul palco. È esibirsi. Condivido pienamente. Sulla droga? Sì, sì, sì. Sulla droga! Sì, sì. Allora, per carità. È sano. C'è quel silenzio che non è un silenzio. Che non è un silenzio, bravo. Quando sei nel palco, sta per iniziare lo spettacolo, ascolti. È un silenzio, ma non è un silenzio. Esatto. Perché c'è la persona che si alza, c'è il movimento, c'è il bruglio delle persone. Il respiro del pubblico. Esatto, è fantastico. Lo senti, che respira, che sta lì, che ti sta a guardare. Che cosa farà adesso? È vero. E poi vedi le luci e non vedi poco. Vedi poco. È vero, è vero. Ti sembra... Beh, fantastico. Sì, sì, sì. Droga naturale, giusto? Sì. Bene, 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 bene. Intanto, allora, questa siccome non è una domanda, ci tenevo a leggerla subito. Ci scrive Cristi Piloni. Ah, Cri. Anche lei stava al World Lab. Ciao, Cri. Esattamente. E ci scrive, io all'ultimo World Lab sono stata raccolta tra le lacrime con il cucchiaino perché mi mancava mio fratello. E meno male che ci sono stati Alessandro e Federico, cosa che dicevo prima appunto sulla grande umanità di queste persone, che mi hanno supportato in un momento di crisi. Vi abbraccio fortissimo, ragazzi, e aggiunge Davide, sei fantastico e super talentuoso. È vero. Grazie, Cri. È vero, è vero. Futuro doppiaggio. Hai capito, hai capito, Riccardo. Hai capito. Tu sei tanto bravo. Eh dai. Tu lo sai, te l'ho detto già, lo sai quello che penso. Sai che gli ho fatto il Joker. Sì. E come l'hai fatto? Io ho insistito, ho detto sono viziato, mi devi far fare. Ti prego fammelo fare. Poi siccome c'hai, proprio io vedo, nei tuoi occhi, vedo quella luce, quella passione, me ci rispecchio tantissimo. Dico, cazzo, io devo far fare sta. Abbiamoci siamo fermati dopo la lezione per fare il Joker e sei stato bravissimo. Vedi che... Non la perde mai, quella luce non la perde mai. È importante. Fa la differenza. Mi sa che ti tocca andare avanti a te perché mi fanno venire. No, Davide, Davide è una grande risorsa. Infatti io e Riccardo che è l'altro creatore di questo canale. Sì, che non è qui stasera perché ovviamente sta guardando Disney Plus e provare a pagare e sfruttare. Noi stiamo cercando di diventare i manager di Davide così potremo prendere tutti i soldi che guadagnerà e mi sembra giusto. Va bene, va bene, va bene. Ascoltami, andiamo avanti. Abbiamo già parlato delle tue passioni diciamo più lavorative. teatro recitazione doppiaggio ok, però ho sentito anche che ha citato Boba Fett allora io gli chiedo ma tu c'hai anche altre passioni. Ma tu sei umano. A te piace anche Star Wars. Sono un nerd. Mi piace Star Wars. Hai capito. È un nerd. E allora è uno di noi. Purtroppo è scarica però questa è quella di Yoda la riproduzione originale della squadra di Yoda. Sono malato. Sì, sì, sono malato. Il Signore degli Anelli il Signore degli Anelli guarda ce l'ho qua aspetta e adesso per sbaglio tira fuori il nostro film. No, questi perché io gioco al gioco di miniature no? Vedi questo l'ho dipinto io. Il Signore degli Anelli questo è Saruman. Hai capito? Io sono sì, sì sono nerd. Gli lasciano i videogiochi le serie tv questi giochi da tavolo così un pochino più tipo di N.D. Bravo, esatto. Allora facciamo anche noi facciamo sessioni di Dungeon & Rage. Grandi, bravi. Per un attore è un gioco stimolantissimo. Io ho iniziato a giocare ero bambino. È bellissimo il gioco. Sono d'accordo, sono d'accordo. Non gli farò le domande sull'ultima sull'ultima trilogia di Star Wars perché non voglio che diventi una una baruffa. Ok, ok, abbiamo capito. Non serve. L'ultima trilogia non esiste, ragazzi. Di cosa stai parlando? Esistono sei film. Basta. Per questo non esiste esistono sei film esiste Mandalorian e Boba Fett. Ecco. E Clone Wars Clone Wars devo dire che è carino. Basta. Esiste in Antarka. A posto, vedi non serviva nemmeno discutere. Perché magari no, ma guarda che è bella perché allora gli diciamo ma andiamo avanti ma andiamo avanti. Allora perché io non mi ricordo nemmeno le domande che ho scritto e questo è impressionante del tutto. Allora eh beh certo abbiamo parlato di Star Wars velocemente abbiamo parlato di Dungeon & Dragon Signore degli Anelli ma scusami tanto anime e manga ce l'hai come passione o è solo una questione lavorativa? No, da sempre anche quello da sempre ragazzi da sempre da che ho memoria anime soprattutto manga insomma i fumetti in generale poi in realtà ho iniziato con i Marvel e i DC Comics da bambino poi mi sono un po' allargato le mie vedute verso i 10-11 anni i primi manga oltretutto il primo in assoluto è stato Dragon Ball ovviamente perché lo vedevo in televisione e poi mi sono allargato quindi sì sì sono patito tutto quello che riguarda il Giappone Eh no è bello invece io per dirti non sono appassionato dei fumetti occidentali che ci posso fare forse li recupererò per ora cioè i manga e gli anime li segui però non sei appassionato di quelli occidentali esatto sì sì ho capito di Marvel di DC beh oddio poi negli ultimi anni però ti dico ci sono delle storie io ho iniziato con Batman per dirti le storie di Miller per farti capire sono delle cose proprio poesia sono due prodotti diversi devi prenderli come due prodotti diversi non c'entrano niente l'uno con l'altro io ho iniziato così perché mio papà che è cresciuto proprio nell'epoca in cui uscirono i fumetti insomma era appassionato anche lui dei Marvel mi portava al cinema a vedere i film e quindi poi volevo pure i fumetti volevo leggere i miei fumetti e poi da là sai frequentando le fumetterie appunto Dragon Ball Dragon Ball ma sì leggiamo pure Dragon Ball pure che lo conosco a me Noria Dragon Ball poi da Dragon Ball passi ad altro insomma così è così è stato ecco tra l'altro parlando così di DC di Marvel mi viene in mente il Joker quindi tu avrai immagino visto sia il Cavaliere Oscuro di Nolan sia l'ultimo Joker immagino sì meravigliosi tra l'altro doppiati dallo stesso doppiatore che è riuscito comunque a dare sfumature completamente diverse questa è la grande capacità stato molto bravo devo essere onesto io il primo trailer avevo sentito ci avevo sentito sopra Fabio Bocca Nera è vero ma l'hanno messo io io sono patito per Fabio per me è uno dei più forti in assoluto quindi un pochino soprattutto che Adriano Giannini è pazzesco proprio però mi sarebbe piaciuto sentirci anche lui onestamente ma io sono d'accordo sono d'accordo in senso Adriano è stato bravissimo bravissimo gli ha dato un carattere anche diverso perché era un carattere diverso rispetto a quello di Heath Ledger però comunque mi sarebbe piaciuto quando ho sentito il primo trailer doppiato da Fabio ho detto ti ho sperato tantissimo perché per me è uno dei più forti in assoluto quindi ma questa cosa ti dirò l'ho sentita anche io ma sai perché? perché il trailer del Cavaliere Oscuro di Nolan anche lì hanno messo anche lì il primo trailer era Fabio e poi dopo hai capito allora tu ti illudi per la seconda volta il trailer lo fa lui senti lui e dici hai capito ma no per carità come dice lui non è che Adriano ha anzi però è un peccato ma penso per lo stesso doppiatore sai perché non lo so in quel caso i trailer quando li fanno sanno già? no non è mai certo a meno che non stiamo a parlare The Matrix Matrix 4 il mio zio è lui l'ha sempre fatto lui quindi è sicuro che è lui se è una cosa nuova e fai un trailer non è detto che se fai il trailer poi fai il film ho capito ho capito a me è successo tantissime volte guarda qui i trolls proprio della DreamWorks i trolls il primo film il trailer l'ho doppiato io poi il film l'ha doppiato Alessio Bernabè il cantante quindi non significa niente a proposito i cantanti che doppiano eh appunto io non su questa commentare assolutamente ignorando i cantanti ancora ancora perché comunque hanno orecchio quindi se sono particolarmente dotati e hanno un direttore dietro che li segue comunque poi il risultato non è guarda Tiziano Ferro su Shark Tale tanti anni fa comunque è stato bravo si sente che non è un doppiatore però comunque è stato bravo molto musicale Renato Zero che ha fatto Renato Zero su vabbè ma Renato Zero per me Renato Zero non è solo un cantante Renato Zero è arte è un artista tra il proprio tutto non è che fa solo canto Renato Zero è quindi non lo non lo mettevo proprio nella poi purtroppo ecco dipende anche dal tipo di talent come li chiamano in gergo no? nel senso che oggi i talent di oggi sono youtuber i talent di una volta Hercules Filottete Giancarlo Magalli no infatti capito? nel senso c'è una bella differenza Giancarlo è uno showman un attore una persona che è cresciuta nel cinema nella televisione quindi si sente quando poi doppia doppia bene e chiaramente noi youtuber no cioè quindi dato che si parla di youtubers youtubers si potrebbe fare una puntata con proprio con con il nostro ospite su sui due film dei me contro te un'analisi 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 esatto perché siamo arrivati a questo? eh diciamo che dipende da come l'analizzi ragazzi purtroppo la società odierna fa abbastanza schifo i nostri genitori crescevano con ecco con Gigi Proietti con Giancarlo Magalli con capito con queste figure che comunque hanno fatto la storia dell'arte del cinema del teatro della musica nato zero no? parlavamo prima noi oggi cresciamo con noi no noi siamo ancora forse ci salviamo quelli che verranno adesso cresceranno con me contro te e cresceranno con eh Agile Lauro nel senso che io non so niente certe canzoni sono anche belle me le ascolto io no me le ascolto è un parolone però nel senso alcune canzoni mi piacciono però ci convivi riesci a conviverci sì non c'è nel senso boh hanno gridato tutti al miracolo al ribelle parlavamo di Renato Zero esatto cioè Renato Zero l'ha fatto in un momento in cui era anche molto più non era così sdoganato nel senso che Renato Zero si vestiva da femmina in un momento in cui se lo facevi andavi in giro per Roma e temenavano c'è capito voglio dire oggi non è più così quindi voglio dire che cosa hai fatto di così cantà non canti perché cantà non canti così l'autodun se è una canzone la prima cosa fondamentale è la voce sicurassi che canti bene come il doppiaggio da questo io ascolto pure i rapper per dirti i rapper però fa qualcosa il rapper fa da qualcosa invece questo è una via di mezzo e obiettivamente non mi ho preso lui che in realtà ti dico non è nemmeno secondo me tra i peggiori comunque so delle cose carine che ha fatto mi sono pure piaciuto alcune cose però comunque per far capire nel senso che viviamo in un periodo in cui l'arte sta un po' facendo così è tutto capito basta che vai in televisione e parli senza dirlo qui su twitch però parli del sesso droga rock and roll e sei rock and roll nemmeno magari parli dei temi così flex al tuo muscolo bebbe assorto gioie alliere capito questo il gioie alliere cioè un gioie alliere non può fare quello che ha fatto a livello di successo capito cosa hai detto se tu vuoi analizzare cosa dici nelle canzoni quindi questo è per dire ci incensiamo sempre di più di estetismo ma non di sostanza bravo bravo vale più apparire che essere è una cosa tristissima purtroppo questi social purtroppo in questo un pochino hanno aggravato la situazione se appunto lui appunto ha detto che no l'arte sta facendo così in questo momento è anche grazie a noi se Davide ha pubblicato anzi ha proprio ha distribuito in larga scala in nero diciamolo chiaramente no ma diciamo in nero perché era vestito di nero dallo smoking quella sera ha distribuito in larga scala un film un film veramente invece 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 questo no invece è l'esatto opposto invece questa è una cosa da ammirare perché dei ragazzi così giovani come voi che si mettono insieme con persone che magari non hanno nemmeno interesse a fare questo mestiere riescono a creare una cosa del genere una cosa più unica che rara in un momento come questo cioè quel film avete comunque voluto dire qualcosa capito quindi quello io lo considero arte perché hai espresso qualcosa ti sei prodigato ti sei sacrificato per farlo ok la differenza sostanziale tra quello che invece c'è oggi è che nessuno si sacrifica per fare niente basta che vado in televisione faccio so figo so bello c'è il bel pisello e sono andato capito certo hai capito quindi invece invece questo quello che avete fatto voi è una cosa molto apprezzabile io glielo ho detto quando mi ha dato il film Davide al World Lab ho detto io ti ammiro quello che ho fatto sempre anche io io pure da ragazzino facevo così che giocavi avremmo la telecamera oh vai famo un film famo un cortometraggio dai divertimosi e fede complice fede complice Federico se noi abbiamo creato i fuori sinc è per Federico noi andammo a fare un provino con un comico romano tantissimi anni fa che Antonio Giuliani un comico prettamente romano qui a Roma molto conosciuto per appunto un laboratorio sulla comicità sulle cose noi vincemmo quel provino perché c'era Federico Federico è un mostro da palcoscenico a parte che fa ride è comico da morire ma è proprio bravo vedo quindi Federico è sempre stato proprio il mio come dire quello che io tiravo più che altro lui perché lui è più sedentario più ah sì dai poi lo facciamo invece io dai no dobbiamo fare sta cosa però poi quando la facciamo lui è è la stella capito te voglio dire io sono un bravo attore Federico è eccezionale so come dire Federico su un palcoscenico è catalizza proprio l'attenzione ma in maniera che guardi solo lui è una cosa pazzesca ho avuto l'onore di vedere un un estratto un estratto quello di di Eva e Adamo ed Eva mamma mia bello quel monologo è bellissimo mamma mia ma sì il monologo è bellissimo e lui lo 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 guarda peccato che l'avete visto al World Lab l'avete visto ci avete visto solo quello se tu vedevi tutto lo sketch prima che ti fa tanto ridere comunque perché è molto è comico ma in maniera assurda sì sì ma è un bel umorismo chi veniva a teatro vedeva questo sketch dove noi trattavamo la Bibbia in maniera cioè nel senso Dio tedesco quindi tipo Cainan devi fare questo è Adamo un deficiente totale Eva una donna di facili costumi ciociara tutta sguaiata quindi la gente diceva donna questi come stanno rappresentando la donna la Bibbia finito tutto questo tu vedevi quel monologo Federico che era ancora vestito poi da Eva quindi se levava la parrucca se levava il trucco così e iniziava a fare quel monologo la gente gli si metteva a piagna gli hanno fatto degli applausi perché comunque c'aveva un senso quel monologo capito era per andare a dire sì noi ridiamo e scherziamo facciamo i cretini però poi in realtà è pirangigliana come cosa molto sì molto molto sì devo dire che questo fu bravo l'autore dell'epoca che avevamo che ci asseccò proprio il tempo nel senso che sì facciamo i cretini però poi dopo ci metti sta cosa che invece ti fa capire quello che pensiamo veramente quindi questo va molto 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 bello qua cosa ci dicono cosa ci dicono qui signor Campaiola signore quando avete ripreso a fare doppiaggio come la guardavano a scuola e casa cosa gli dicevano i professori io non ho mai detto niente a nessuno ma manco prima di riprendere a fallo cioè io non mi sono mai presentato dicendo ah ciao sai che io sono il figlio di Lisa Simpson e il nipote del creatore mai detta questa cosa qua mai se mi chiedi che lavoro faccio sono doppiatore ah che cosa doppi questo questo e quest'altro questa è grande umiltà non mi sono mai ma perché l'umiltà è come diceva Mastra Andrea che l'hanno intervistato qualche giorno fa diceva io non sono nessuno chi fa questo mestiere se lo dovrebbe ricordare sempre pure se arriva la no non è il caso mio ma se arriva a essere successo quello capito che te fermano per strada tu non sei nessuno l'attore è un intrattenitore per dirlo in maniera ancora più grezza è un giullare serve per intrattenere gli altri questo non te lo devi dimenticare senza quegli altri tu non sei niente quindi bisogna sempre ricordarsi che fly down non stai facendo niente di più degli altri niente vai a fare un mestiere anzi devi usarlo per portare positività alle persone se tu quando qualcuno ti ferma per strada gli dici no levati la foto no non me va sei un cretino perché non hai capito proprio minimamente quello che stai facendo per come la vedo io non hai proprio capito che cosa qual è la tua missione qual è il tuo scopo su questa terra non l'hai capito tra l'altro ascoltando un'intervista proprio a Luca Ward lui diceva che quando lo fermano per strada per gli chiedono puoi rifare il monologo del candidatore lui ha detto io lo rifaccio sempre anche molto volentieri è vero mio zio lo rifà sempre sempre quando io lo chiedo non lo fa certo ci sono dei casi in cui le persone poi devo dire sono pure maleducate non hanno questo altre cose però di base se una persona si avvicina a te che ti guarda con l'occhio e ti dicevo ma tu sei mi fai il monologo di Eren mi fai il monologo del creatore tu io lo devi fare perché quello è il lavoro tuo è intrattenere gli altri ma tu sei Davide Schi mi fai il monologo di Arlac il monologo di Arlac il mio film ah allora guarda grande insomma insomma no è bella questa cosa ed è bello perché spesso anche quando vanno da Luca gli chiedono di fare la frase e la sbagliano o me dici al mio via scatenate insomma sì sì è vero è vero è un po' sempre quello prendere anche sull'ironia molto tu hai citato Pirandello prima noi a teatro stiamo facendo un'opera di Pirandello grande grande il berretto a sonagli cosa? il berretto a sonagli è grandissimo tanta roba sì 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 hai capito allora forse torno a teatro no a vederlo a vederlo ovviamente ah ok ok quello quello sì quello sì dai e ok 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 ma senti quindi abbiamo detto che è un nerd infamia vergogna no anzi siamo orgogliosi di questo ma l'anime preferito se ne hai uno perché cioè in genere come dall'alchemist io sto leggendo non l'ho ancora visto stai leggendo il manga sto leggendo il manga che adesso stanno uscendo le nuove edizioni sì bellissimo l'ho visto ed è a parte che tipo sfogliando subito il secondo volume citano Cartesio così totalmente come dall'alchemist è geniale è veramente geniale e ha segnato indubbiamente un'epoca sì sì sono d'accordo lo guarda l'insegnante di matematica di fogo sì l'ha detto in classe non ci credo sì sì incredibile insomma invece il mio è cioè il mio è ripeto sono un grande amante di cowboy bebop bello pure quello bellissimo tempi rispetto è il mio però veramente ha uno stile tutto suo quindi veramente bellissimo pure quello sì ecco una cosa che apprezzo particolarmente di alcuni anime perché non tutti perché alcuni sono puro intrattenimento ma che veramente hanno un bagaglio culturale filosofico che ti fanno veramente decisamente rispetto a tanti altri prodotti più occidentali per questo dicevo prima che non sono molto legato ovviamente anche molti prodotti occidentali lo sono parlo di animazione ok però non lo so ti guardi un ti guardi un film di Miyazaki molto banalmente oppure ti guardi Attack on Titan eccetera e hanno una ricchezza veramente formidabile Attack on Titan è il miglior prodotto degli ultimi dieci anni oltretutto io sono d'accordo sono d'accordissimo sei sparito può essere no arrivo subito arrivo subito ok perfetto no no scusatemi perché mi ha chiamato mio fratello quindi mi sono un attimo quando è Federico non sto sempre in campana capito eccolo stavo dicendo Davide mi ha un po' iniziato alla cultura giapponese perché non sono un grande esperto e mi ha consigliato alcuni prodotti da vedere insomma sono rimasto molto stupito soprattutto sono rimasto stupito per il fatto che all'interno degli anime o sì degli anime in generale c'è come diceva Davide un bagaglio culturale molte volte maggiore di altri prodotti occidentali ma non solo rispetto ad altri prodotti anche ai film banalmente sì sì un film può darti un'idea ma per esempio ho visto Attack on Titan di recente proprio perché Davide non è offita esatto perché Davide me l'ha consigliato e si potrebbe discutere della filosofia ma anche delle scelte che sono state fatte per ore e ore e non so che cosa sia ma c'è questa c'è questa caratteristica questa caratteristica che ti permette di avere grandi temi in prodotti che magari durano come altri occidentali di durata beh ma i giapponesi sono molto profondi hanno alcuni limiti per come la vedo io la loro cultura purtroppo gli impone proprio dei limiti che non riescono a superare come il fatto ad esempio di non sdoganare l'amore o no è vista sempre tutto nelle cose un pochino più ecco come in realtà con Titan è considerato uno shonen anche se secondo me non lo è lo dicono lo sbandierano come shonen ma chiaramente non è uno shonen però c'è sempre questa cosa che hanno proprio difficoltà perché ce l'hanno loro per prime ad esprimere le cose belle per una donna piuttosto che per il proprio amore quindi qualsiasi genere esso sia questa è una cosa che dopo anni che segui un pochino ti pesa soprattutto perché noi viviamo un altro tipo di cultura però allo stesso tempo hanno una profondità su temi come l'amicizia il sacrificio l'onore che vabbè è tutta loro infatti comunque voglio dire sono molto ammirabili dal mio punto di vista veramente un mondo affascinante poi voglio dire gli anime ti mostrano sempre delle poppe ogni tre inquadrature quindi quello è comunque un punto di vantaggio per quasi con qualsiasi anime ma chi è sta zinnone ma chi è sta zinnone ecco quindi ho capito full metal alchemist è una bella una bella scoperta ascoltami ma a questo punto io volevo chiederti visto che hai fatto una miriade incommensurabili di ruoli siano AC film serie tv anime perché ha fatto anche Saitama di One Punch Man per dire che anche lì ha tutta un'altra impostazione vocale mi fa morire da ridere ogni volta ma il tuo ruolo preferito mi dirà Flash Flash immaginavo e io dirò che Flash l'ho visto solamente sporadicamente quando magari venivo a casa da scuola e vedevo una puntata così a caso ma non l'ho mai seguita come serie le prime tre le prime tre stagioni sono bellissime allora io me le dovrò recuperare sentirai anche un me molto più giovane perché chiaramente è bello intervistare un doppiatore perché lui non deve difendere l'opera perché lui la doppia non l'ha scritta non ha ci sono molti doppiatori che invece sono molto cioè la difendono a tutti i costi per me non è così Flash io ci sono affezionatissimo adesso però andrò a doppiare l'ottava e sono molto contento di ritornare in sala a doppiarlo perché amo l'attore amo la situazione delavorativa però obiettivamente da fruitore ti devo dire che le prime tre stagioni sono belle indubbiamente è una bella serie è bella pensata dalla quarta in poi potevano anche fermarla insomma se ne poteva fare a meno questa è la verità ma con con il discorso spoiler cioè tu è un problema doppiando mi spoiler le cose dei miei personaggi sì e invece con il mondo esterno cioè fuori dalla sala tu hai non lo dico è un vincolo il segreto del prete non è che sì il segreto del prete noi firmiamo proprio dei contratti quindi infatti pensa che l'anno scorso mi è capitato di dover ridoppiare Quicksilver in Bandavision però interpretato dall'attore Ivan Peters quindi quello che lo faceva negli X-Men era una cosa cioè il primo prodotto Disney arriva gli X-Men che erano Fox cioè Ivan Peters che era X-Men Fox cioè una cosa segretissima e pensa che io ho avuto veramente una bella gatta da pelare perché la mia controparte spagnola il doppiatore spagnolo di Pietro di Ivan Peters ha spoilerato al mondo che c'era Quicksilver e che era Ivan Peters chiaramente a lui gli hanno fatto un masso proprio che non ve lo dico l'hanno licenziato l'hanno sostituito penso che non lavorerà mai più con la Disney quel povero Cristo ma l'ha fatto apposta per sbaglio non so se è stata una debolezza pure perché poi noi firmiamo dei contratti che sono inequivocabili cioè nel senso che noi sappiamo perfettamente che non possiamo assolutamente dire niente ma è anche giusto perché noi comunque facciamo parte di quel meccanismo no? quindi siamo un ingranaggio di quel grandissimo meccanismo che è il cinema quindi perché scusami perché dovremmo spolerare è come se l'attore stesso dicesse ah io sto in perché non si fa è rovinare il lavoro di altri non si fa cioè voglio dire quando esce lo vedi e siccome ha fatto questa cosa ovviamente a me mi hanno scritto tutti dicendomi ah ma è vero ma allora stai doppiando e io ho dovuto a malincuore rispondere infatti mi sono beccato dopo certi vaffanculo che voi manco immaginate ragazzi io non ne so niente non sono se lo stanno doppiando non hanno chiamato me questa è stata la risposta che davo quando stavo già tipo non so l'ottava puntata chiaramente però no noi poi è ovvio dipende dalla situazione dipende dalla cosa però io comunque il segreto professionale per me è importantissimo firmo anche dei contratti che sono anche perseguibile cioè se io spolerassi una cosa del genere a me possono pure fare una multa pure molto salata cioè la Disney mi porta in causa capito? e non viene Topolino in tribunale te immagini? mamma mia oppure Topolino quello di stacca stacca ci traccia Topolino Topolino mi viene in mente Alessandro Quarta grande grande ah ciao sono Topolino che mito che è mamma mia numero uno e poi ti passa a fare lì e ti passa a fare Berlino della casa di carta Alessandro Quarta è un grandissimo professionista a parte che è una persona squisita c'è proprio ti fa tanto ridere io quando lo incontro mi fermo cioè devo parlare con lui perché qualsiasi cosa ti dice ti porta al buon umore cioè è una persona bella ma poi è professionista fa tutto fa il figo fa il cretino fa la caratterizzazione i cartoni animati cioè Alessandro è un mito un mito grandissimo attore veramente e soprattutto quando io ho visto tu non l'hai ancora visto è vero beh Erwin ti ho parlato di Erwin la voce di Erwin ecco lì ho fatto un grande dibattito continuo ancora a farlo io preferisco il doppiatore italiano quindi Alessandro Quarta non c'è dubbio guarda non c'è proprio paragone io pure leggo spesso perché Alessandro gli dà 30.000 piste perché Alessandro ha un background proprio attoriale cioè quello originale quello originale no è bravo bravissimo tutti bravi è bravissimo però Alessandro la marcia in più cioè è una cosa che di me stesso non direi mai non so come su di lui te lo dico non è possibile Alessandro è meglio Alessandro Quarta è molto meglio dell'originale ma tra l'altro non so se hai mai visto Giorgio che è un po' un'opera no mi manca me ne parlano tante persone però purtroppo mi manca Giorgio ecco e il fatto è che poi non so se questo possa essere un difetto o meno per me lo è il doppiatore giapponese di Erwin è Daisuke Ono si chiama così non è importante il nome era solo per correttezza e doppia in Giorgio un personaggio uno dei protagonisti che è grosso alto due metri e passa grosso come un armadio e lo doppia allo stesso modo in cui doppia Erwin che fondamentalmente è uno stecchino non lo so ripeto sentire una voce così potente profonda ci può anche stare però a me disturba perché per dire Alessandro IV ha questa voce squillante ma non nel senso di acuta e fastidiosa è squillante nel senso trionfale nel senso che è un comandante e senti che ha proprio la come se fosse uno squillo di tromba quando quando dà l'attacco l'ordine sì e a me questo piace sentire uno che ha una potenza per quello che vuoi dipende sempre come la usi la voce vedi prima hai detto una cosa che tu fai un personaggio che è completamente diverso però è sempre quello quello è un limite grande e anche tanti colleghi italiani ce l'hanno questo limite si dimenticano che sono attori tu devi essere versatile tu devi fare li sterminerò senza lasciarne neppure uno e poi devi fare è finito tutto con un solo pugno e che cazzo cioè devi cambiare se no che cazzo stai a fare stai a fare un altro mestiere sei un attore devi prestarti a quello che capita no che io uso la mia bella voce io uso la mia bella voce credo certo certo tra l'altro tu lui è ancora fermo sostanzialmente alla seconda stagione di Eren l'attacco dei giganti sì che lui ti ha appena fatto un Eren che tu per ora non conosci ancora non conosci non puoi nemmeno immaginare cosa sarà però ecco tra l'altro a proposito di Eren so che tu l'hai già ricevuto lo spoiler finale giusto sì 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 so come conosce io no bravo ma questa è una cosa bella io praticamente avete presente come si fa per creare una specie di antidoto al veleno sì hai levato tutte le pagine tutte le cose sì sì ma ho fatto anche un'altra cosa molto più materialista in un certo senso io ho in camera mia l'ultimo volume è fermo là in celofanato e lo ammiro ogni tanto da lontano dico io so che lì c'è la verità no la verità fuori dalle mura dico è lì ma starà lì finché non uscirà tutto l'anime anzi finché non uscirà il doppiaggio perché qui arriveremo forse se facciamo in tempo ma non credo magari possiamo anche invitare la questione Crunchyroll che c'è stata ma insomma vabbè ma guarda al bulo al bulo se ne può anche parlare figura di tanto è insomma la questione Crunchyroll è una questione triste cioè nel senso che comunque hanno purtroppo fatto fare un grandissimo passo indietro a tutto il settore al settore degli anime non del doppiaggio perché il doppiaggio abbiamo doppiato l'attacco dei giganti c'è stata una miriade delle serie che si doppiano però hanno fatto fare un grande passo indietro perché noi l'anno scorso l'abbiamo doppiata in Simultub era la prima volta nella storia che si doppiasse una serie giapponese animata in Simultub cioè vuol dire che usciva una settimana prima in originale la settimana dopo usciva doppiata non è mai successo questo succedeva succede solo per le serie di AAA tipo che ne so Trono dei Spade Walking Dead capito? è una cosa molto triste quella che è successa non li giustifico come non giustifico chi li attacca nel senso che questo sia ben chiaro lo dico sempre a tutti non dovete assolutamente andare là a scrivere perché non serve a niente anche perché chi lavora a Crunchyroll Italia sono persone che stanno dalla parte nostra e che vorrebbero il doppiaggio certo però non li giustifico non giustifico Crunchyroll per questa cosa che ha fatto per il semplice fatto che tutte le negli ultimi anni sono uscite queste piattaforme Netflix Amazon Disney Plus Apple TV Team Vision Cubo V tutta sta roba qua è uscita viviamo in questa epoca qui tutte queste piattaforme tutte queste piattaforme sono arrivate in Italia e hanno doppiato perché hanno visto che le cose si devono doppiare punto non è che hanno detto ma andrà bene andrà male noi dobbiamo doppiare perché le cose si doppiano qui quindi non capisco questo ragionamento di non abbiamo abbastanza abbonati quindi vi dovete abbonare perché sennò il doppiaggio non ve lo facciamo cioè è il cliente che fa l'offerta è una cosa folle se ci fermiamo un attimo a pensarci è una cosa folle già solo per questo quando uno mi dice però io scusami ma perché mi devo abbonare c'ha ragione cioè voglio dire tu non mi stai offrendo niente ci sono serie nuove mi hanno detto che sulla piattaforma ci sono delle serie nuove che che ne so dalla puntata 1 a 10 non c'è nemmeno il sottotitolo in italiano è una cosa grave tantissime opere è una cosa grave cioè tu vuoi che io ti do i miei soldi però non mi stai offrendo niente cioè mi stai dando la puntata giapponese che me la potrei vedere su la tv giapponese capito? e ti voglio dire ma di che stavo a parlare? e perché mi devo abbonare? cioè capito? allora la verità sta un po' nel mezzo chiaramente non io condanno la pirateria condanno purtroppo in Italia siamo molto comodini questa è una cosa che ce l'abbiamo sempre avuta ed è una cosa molto grave cioè il fatto di dire ah sti cavoli non pago quindi me lo vedo così e questo non si fa però dall'altra parte capisco pure chi me dice Alessà io non me ce voglio abbonare perché no capito? non mi propone niente perché me devo abbonare? quindi svegliatele e fate il doppiaggio curate le cose perché poi avete tantissime cioè voglio dire hanno preso un botto di piede hanno un botto di serie c'è la possibilità di sfondare ce l'hanno tutta cazzo quindi non vedo perché non debbano farlo ma io sono completamente d'accordo ma ci mancherebbe altro io non finirò di vederlo l'attacco dei giganti se non me lo fanno e ho sentito sì te l'avevo chiesto per ora tu l'anima almeno non lo so no 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 ma non voglio proprio vederlo non mi interessa manco il man niente se non me lo fanno finire di doppiare io non lo finirò di vedere basta perché ci sono legato e perché è proprio una questione mia cioè non esiste io ci siamo fatti tutti in un marzo grosso come una casa il direttore di doppiaggio che è venuto a mancare a settembre Giuggi Castagna che ci ha messo tutto il cuore per fare sta serie porca troia tutti noi cioè urlare come matti nessuno non ci siamo mai risparmiati mai mai non è giusto che non ci fanno finire questo doppiaggio perché? perché arriva una società X che dice io non doppio le cose perché non ci ho abbonati dai qui in Italia tutti doppiano fai il bravo forse se doppi c'è più abbonati ma indubbiamente ma penso ad esempio adesso a questo spopolamento di serie coreane sudcoreane pensavo di serie di Netflix non è da quante ne stiamo doppiando tu non sai io è una cosa che mi viene da piangere onestamente però non per niente perché alcune sono belle però onestamente è diventata tu non lo so ogni società di doppiaggio qui a Roma ha almeno una o due serie coreane o cinesi sì 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 ma il lato è apprezzabile almeno che Netflix ha detto no e dopo certo ho preso Squid Game ho fatto questo successo che vabbè è discutibile Squid Game loro non ci credevano loro pensavano che fosse una serie che non si sarebbe visto nessuno e quindi ci sta dice perché la devo doppiare l'Anton Savede nessuno la metto lì ha fatto il successo che ha fatto l'hanno doppiata perché hanno detto la dobbiamo doppiare dobbiamo arrivare a più pubblico perché la verità è che anche io mi vedo le cose in originale spesso e volentieri soprattutto per quanto riguarda gli anime ma la verità è che il doppiaggio dà modo di far conoscere un prodotto anche a persone che non l'avrebbero mai visto in originale perché tanta gente ragazzi ora levando chi è appassionato di Giappone di cose giapponesi non se le guarderebbe manco se le paghi le cose in giapponese perché non gli piace quella lingua questa è la verità se l'Attacco dei Giganti ha fatto quel successo qui in Italia è anche grazie al doppiaggio perché tantissime persone che non hanno mai visto un anime in vita loro se non Dragon Ball appunto se sono avvicinati all'Attacco dei Giganti grazie al fatto che c'era doppiato quindi voglio dire di che stiamo a parlare? io ho fatto la petizione che ho lanciato online l'ho scritto io mi appello a tutti anche a chi non lo vede il doppiaggio perché se ami l'Attacco dei Giganti se ami quest'opera la supporti cazzo vuoi che più persone possibili la sentano e la conoscano capito? questo è sì sì sono assolutamente d'accordo anche perché comunque nel momento in cui loro hanno capito questa cosa hanno detto abbiamo fatto successo adesso sono uscite 30 serie coreane e sono tutte 30 doppiate perché hanno capito che se sono efficaci è soprattutto in quel caso del doppiaggio direi doppiaggio sì sì assolutamente c'è capito dobbiamo far ma a questo punto e mi avvicinerei verso la conclusione perché non voglio assolutamente trattenere Alessandro più del dovuto che è stanco morto vedi gli fanno doppiare le serie coreane che altro cura cenare purtroppo solo quello perché se no allora io vorrei arrivare verso la conclusione dicendo questa cosa ma noi ci stiamo facendo tutte queste pippe sul doppiaggio ma siamo professori di storia dell'arte perché si facevano le pippe vedete l'arco facevano le pippe si facevano pippe d'architetti perché lui è un architetto è del sud no lui è arrivo se non mi vedete più tutto ok Verona 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 parla così lui ha molto un accento sardo un po' sardo un po' Emilia Romagna perché si facevano le pippe cosa ha scritto Aristotele ma perché la metafisica la metafisica la fisica oppure il gotico è il gotico ragazzi storia dell'arte e poi perché Michelangelo è neoplatonico allora 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 eccomi mi avvicino con questa grande frecciatina che rappresenta ciò che penso noi stiamo parlando di doppiaggio ma diciamoci la verità sto doppiaggio è davvero un'arte o è un po' per gli italiani viziatelli quelli che non vogliono studiarsi l'inglese o le altre lingue no che loro lì appoltronati si sentono una lingua che è loro insomma questo doppiaggio è un bene è un male cos'è che cos'è se me lo chiedi a me la risposta è abbastanza scontata perché sei di parte beh potrebbe sì si potrebbe pensare che sono di parte io oltre ad essere di parte sono molto amo molto le mie origini amo il mio paese amo la mia lingua e amo la possibilità di no amo amo l'idea di dare la possibilità ai bambini ma anche alle persone più grandi di sentire un prodotto nella propria lingua fatto bene ovviamente ci sono pure quelli fatti male se è fatto bene è un valore aggiunto per come la vedo io poi a ognuno le proprie conclusioni una cosa è certa e questa l'ho detta ieri l'altro ieri quando ho fatto l'altra live ed è una cosa che posso assicurare perché io ho studiato per tanti anni insomma ho fatto una scuola americana da bambino quindi l'inglese o qualsiasi altra lingua non la impari con le serie di B non puoi impararlo con una serie di B in originale non solo non lo impari e ti perdi anche la serie di B perché guardando i sottotitoli non potrai mai vedere tutto quello che c'è sullo schermo è probabile quindi sono uno che lo fa io spesso mi vedo le cose in originale questo sia ben chiaro se no sembra che però assolutamente ma è quello che dicevamo che con il tuo prof no il fatto dopo ovviamente l'occhio ci si abitua ma non potrà mai essere la stessa cosa tu devi decidere devi decidere esatto ci sono varie opzioni cioè io guardo in originale perché perché voglio fare esercizio voglio sentire un po' d'inglese ogni giorno anche se sì non è quello il modo per impararlo però comunque sentendolo magari uno si 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 quello si quello per carità per carità di dio da finché è inglese esatto uno può dire ok guardo il prodotto in originale perché voglio non perché voglio analizzare profondamente l'opera semplicemente perché voglio sentire qualcosa in inglese magari qualcosa che mi piace poi ascolto l'opera in originale perché voglio sentire l'attore originale e spesso faccio così per esempio sì 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 il cavaliere oscuro che è penso uno dei miei film preferiti l'ho visto tipo 50 60 volte in vita mia mi riguardo volentieri sia le clip in italiano sia le clip in originale assolutamente anche perché Heath Ledger appunto nel senso sì 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 e poi l'appassionato dice no lo guardo in italiano perché voglio sentire doppiatori bravi come come nostro ospite oppure perché uno non appassionato dice lo guardo in italiano perché non ciò sbatto di guardare in inglese ci sono varie possibilità però il doppiaggio in italiano serve anche per un appassionato ma assolutamente quindi ha diversi pro secondo me certo ha dei contro ma anche lì molto spesso sono ideologici io credo è meglio in originale difende sempre anche dall'opera che stai guardando insomma io tante volte leggo delle cose io mi ricordo i primi anni The Flash leggevo delle cose su attori cani tanto cani io faccio sempre questo esempio Iris di Flash personaggio Iris West che è doppiata dalla bravissima Valentina Pavazza Valentina gli ha fatto un servizio a quell'attrice cioè nel senso che ad oggi forse è migliorata un po' l'attrice ma le prime stagioni Valentina l'ha migliorata non è che l'ha migliorata ma non so nemmeno farlo non so trovare un sinonimo ancora più grande di migliorare capito cioè lei era l'attrice in originale era insentibile Valentina è un'attrice bravissima e gli ha fatto un servizio e mi fa ride quando spesso chi non ci capisce assolutamente un cazzo di recitazione perché non ci capiscono niente ah perché l'attrice in originale ha fatto sta cosa ma è una cagna a Baia gli mancano i croccantini per mangiare da che stiamo a parlare Corinna cioè capito di che cosa parli allora questo è il discorso poi ovviamente ci sono casi prima che hai detto il cavalliere oscuro vabbè te legger voglio dire ragazzi ma pure Joaquin Phoenix era il suo discorso però comunque quelle sono performance che vale la pena vedersene anche in originale assolutamente se ti piace insomma la recitazione se ti piace no cioè lo devi vedere per vedere che cosa ha fatto quindi sono d'accordo con te in pieno proprio io comunque invito i nostri ascoltatori ad ascoltarsi in lingua originale uno dei primi film di Tom Cruise e fare un confronto con il doppiaggio restituito in italiano perché ah poi c'è Roberto Chevalier esatto diciamo gli ha fatto un servizio parla moderno un grande servizio Robby gli ha fatto poi adesso arrivano tutte le serie di Netflix tutte identiche tutte in nord Europa lo prendono con lo stampino le fanno e e poi ci sono ci sono i doppiaggi che sono fatti sono tutti uguali e sono del tipo ma tua madre ha preso quello che doveva prendere no non ha preso quello che doveva prendere torna mai delle novella del trio sì 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 è vero oh no ma questa situazione è drammatica il fatto che ci siano sempre più doppiatori doppiatori e sempre meno doppiatori con una formazione teatrale fa sì che si monotonizzi quasi e poi ci sono doppi un vichingo allo stesso modo di un cowboy sì sì è quello che ti dicevo prima la stessa cosa hai capito quindi quello dubbiamente ragazzuoli io purtroppo a breve vi devo salutare perché se no non ce ne ero più volevo solamente per correttezza leggere questa domanda se no mi buttano giù ammenate jostraia22 non so chi sia quindi la conosco sì 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 ok domanda per Ale come faccio a migliorare la mia velocità nel leggere potrebbe essere un problema leggere velocemente nel mondo del doppiaggio non so se sia ah sì forse un punto esclamativo decisamente e poi ancora vorrei chiederti come si può prendere parte al world lab ma vabbè serve qualche requisito allora per quanto riguarda il world lab no non serve nessun requisito il corso è aperto a tutti è un modo per la master è aperta a tutti è per vedere un po' che cos'è questo mondo quindi non c'è ci stanno requisiti né età né nient'altro per quanto riguarda leggere velocemente onestamente non penso che sia una questione di allenamento non saprei che consiglio dare perché è normale che io dopo anni che leggo tante tante righe di copione al giorno capito? diverse se devo leggere una cosa sono un pochino più rapido perché chiaramente lo faccio dei mestieri perciò è normale però non è che mi sono mai ho in mente un allenamento da fare farlo tanto sicuramente più lo fai più puoi rapidizzarti d'accordo spero che sia stato per me è stato esaustivo nel senso che non esiste una vera e propria tecnica da applicare se non il mettersi continuamente in gioco perché insomma non è che esiste un metodo assoluto quindi indubbiamente indubbiamente beh io direi anzitutto grazie mille perché è stata una live ricca di spunti è stato un piacere conoscere oh no ma guarda che io ti dirò che lui lui è il doppiatore di Eren non so se l'hai capito ah è il doppiatore adesso che lo sai poi capito ah interessante sì 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 no ma mi ha scritto mia mamma poco fa mi ha detto comunque l'ospite che hai stasera ha veramente una bella voce potrebbe fare il doppiatore diciamo che grazie a mamma povera mamma così e insomma dai io sono veramente molto contento di averlo portato qui con la forza condivido è stato un piacere ragazzi è stato un piacere fare questa live con voi siete forti siete in gamba grazie mille infatti adesso mi appello a tutti quelli che stanno seguendo la live continuate a seguire questi ragazzi qui fino allo sterminio dei nemici rimane in tema Eren fantastico dobbiamo fare la clip questa la clipiamo questa la clipiamo anzi 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 aspetta una cosa scusami se ti rubo l'ultimo minutino la possiamo rifare con io sono Eren un attimo solo vai 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 dimmi quando sei inquadrato perché non ti vedo sono inquadrato allora continuerò comunque ad avanzare fino allo sterminio dei nemici facciamo la la facciamo normale ok benissimo mi sono mi vedi ti vedo tre due fai la pausa dopo avanzare ok una pausina tre due uno continuerò comunque ad avanzare fino allo sterminio dei nemici io sono emozionato questa la useremo la useremo grazie ancora Alessandro ammazziamo i giganti ammazziamo i giganti e tu non sei ancora niente di giganti quindi occhio di queste cose e quindi ringraziamo anche oggi Lorenzo Sibiglia ne ha spoilerato una cosa comunque ringraziamo i nostri ascoltatori Alessandro miticissimo veramente grazie mille grazie a voi e noi ci vediamo alla prossima live buonanotte a tutti ciao a tutti buonanotte ciao ciao ciao